A questa manifestazione qui ai giardini di Piazza Cavour, davanti al palazzo sede della Corte di Cassazione, incontriamo anche il nostro corrispondente da Ostia, che fa un agregio lavoro tutti quanti, diciamo, gran parte, quasi la totalità dei video che vedete su Ostia, su LibreTV, ci sono grazie a lui. Franco Giacomelli, un radicale storico. Franco, questa manifestazione ti riporta un po' ad altre manifestazioni, ad altri appuntamenti radicali sulla giustizia, che insomma si perdono proprio nella notte dei tempi, diremmo quasi. Sì, certo. Dunque, io da qualche anno insomma ho partecipato a altre grandi manifestazioni e questa cosa mi ricorda molto Enzo Tortola, perché l'ho vissuta proprio da vicino. Sappiamo benissimo che insomma in Italia c'è questo grosso problema della giustizia. Mi viene in mente un'altra volta che la giustizia è uguale per tutti, poi ieri c'è scritto non tutti sono uguali per la giustizia. Quindi è un problema grosso in Italia e speriamo insomma noi radicali, che facciamo sempre la parte nostra e il dovere nostro, che speriamo insomma piano piano qualcosa si riesce a aggiustare. Peraltro comunque sia tu anche a Ostia insomma cerchi di diffondere questa scuola politica, questo metodo politico, insomma con notevole fatica. Beh sì, certo. Ostia, il mare di Roma, c'è diciamo tra virgolette anche lì un problema di giustizia. Di giustizia nel senso che il mare, il mare di Roma è stato rubato, rubato ai cittadini, ai turisti. Abbiamo una sorta di lungomuro, 10-11 km di lungomuro, non di lungomare. Anche lì c'è il problema, anche a Ostia così, della giustizia. La giustizia di un bene così naturale, pubblico, un bene comune che appunto non viene... i cittadini non sono in condizioni di poterlo vivere normalmente, giustamente. Perfetto, allora grazie Franco e ti diamo appuntamento ai prossimi impegni su Ostia per Libri TV e non solo. Grazie ancora. Grazie.